Il prefetto di Salerno Francesco Russo sulla scorta della legge Severino ha disposto la sospensione dalla carica del sindaco di Casalvelino Silvia Pisapia, eletta nelle consultazioni amministrative del 20 settembre 2020. Il provvedimento è stato adottato a seguito dell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania, emessa il 26 gennaio scorso nell'ambito di un'attività di indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, con la quale il primo cittadino è stato sottoposto alla misura del divieto di dimora nel territorio comunale.